Salve amici fratelli della congrega, non pensate che io sia una persona pacata? Ieri spaccai la taccatane, a cui comunque dovrei appendere molti di voi. Voi invece dalle labbra pendete di persone che reputate ragguardevoli in materia cinematografica e leggo dei commenti, fra l'altro, molto esaustivi, molto argomentati. Un tizio recensisce, a proposito di mystery thriller particolari, con il veluto blu, dicendo una stronzata, fra l'altro, sui pedale, che da lì si origina ciò che porterà Lynch a realizzare Twin Peaks. Che non vale la metà di veluto. Ok? In questo concordo con Merighetti, che definisce Twin Peaks e il ritorno, non una serie televisiva, perché non lo è, ma un film, uno dei più grandi film di sempre, dedicandogli ampio spazio. Ora, chi non mi conosce, pensa, Merighetti, ma mi sarebbe, diciamo, più pertinente, ecco, approfondire un'introspezione, diciamo, e anche un'esgesi, un'introspettiva maggiore, senza tenersi a questi critici, sì, io mi percorrere, ah sì, però, diciamo, ecco, ecco quello che è successo nella mia vita. Sto indagando in merito al retropensiero, scattano nelle persone che non mi conoscono, pensano, però lo vedo sempre isolato, ma forse, ma allora, avrei da dirvene tante, e realizzerò, sì, sono sempre più intenzionato, a concretizzare questo mio sogno, un lungometraggio intitolato Il Commissario Flau. Stasera ho effettuato anche alcune riprese durante i miei viaggi perlustrativi, diciamo, perché sono un uomo illustre, vi illustrerà ciò che visualizzerete, sarà filmato, filmerò tutto, e do lustro ai sogni, mentre l'esimio, egregio, un po' ingregito, Paolo, leggiamo cosa disse, come si intenzionano in merito al cinema di Argento D'Ario. Dunque, dopo voglio addolcire le vostre amarezze, duccherando però il mio fegato, mentre il vostro è sempre amaro. Dicevo, il Commissario Flau, che può richiamare, diciamo, Lino Benfi, fra che la bel woman, il Commissario Loghetto, saranno volatili per diabetici, cos'è un quiz? No, cazzi, Ameri! Ameri! Ameri, Ameri, Ameri! C'è Ameri! Speriamo di fare 13, non c'è più neanche il 13, bar dello sport, sono tutte, diciamo, ecco, dicevo, le mie associazioni mentali, uno inserisce come commento capolavoro del genio Lynch, beh, una critica, veramente, veramente eccezionale, si è impegnato parecchio, capolavoro del genio Lynch, ma... guardate, se mi fate ingazzarvi, spezzo la noce il capocollo, allora partiamo dal primo film di Merighetti, scusate, qui ci vuole l'estrazione, perché se no non riesco a leggere la recensione, ma come vi vengono queste rime bacette, tutta cheppa, allora, andiamo, questo è Merighetti, e a forza di stare in gas a guardare film, non riesce a respirare, fra l'altro, Merighetti, c'era una volta in America, è un po' irritante oggi, anzi, fra poco si conclude questa giornata dedicata alle donne, c'era una volta in America un po' irritante e misogino come te, tu sei irritante come Murray Franklin di Joker, Merighetti, è una storia di gangster, è logico che siano irruenti, violenti, i maschi, anche nel peggio, ma che cazzo ha capito, Merighetti? Merighetti, chezza di America, partiamo proprio dall'uccello, dall'uccello, dalle piube di cristallo, io ho sbagliato, perché Merighetti, fra l'altro, ripartisce il dizionario a L e poi MZ, con tutte le classificazioni, Paolino, i pallini vuoti, soprattutto le palle giuotete di Merighetti, che dinnanzi a tutte queste donne, perché lui no, non è maschilista, è pieno, questo dizionario, di apprezzamenti, mitico, in Zandalì, il film, una stelletta, film pessimo, però se volete, Eric Anderson vale il prezzo, del biglietto, e della sega, che dicevo, Merighetti, me l'immagine, me l'immagine, me l'immagine, Merighetti, fra un film e l'altro, fermi immagine, e poi, dicevo, allora, facciamo, facciamo, facciamo i seri, e partiamo dall'uccello, per arrivare poi, dalle piume di cristallo, io sono un tipo puro, siete presente, sì, sono un po', a proposito, la vita è come un scatolo di cioccolatini, non so mai quello che ti capito, sono fuori sgab, lì c'è la piuma, sotto il piumone, Merighetti, anche lì, ma non c'è nessun donnone, lei Merighetti, filmone, l'uccello, dalle piume di cristallo, tre stellette, tre stellette, fermi immagini, però dei ricordi, il dolly, sulle case in prefinale, gli intrecci di aere, un bellissimo senso, dei luoghi, tra gli interi minacciosi, gli esterni, di una Roma piena di ombre, semi desert, l'umorismo di alcune macchiette, le macchiette che dopo, che Merighetti, sai lì, si sporcano tutte le lenzuola, no, funziona, 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 però Merighetti, non ci dà molto dentro, secondo me, la suspense è affilata, con una violenza, molto contenuta, la sequenza dell'omicidio sul letto, che a proposito, quando da Merighetti e Bessie Kirstin, che lì, partono con, un Michael Douglas, un po' falò, un po' quello, il famoso uccello del, no, dicevo che poi, indaga lì, a proposito, durante il periodo del Covid, le femministe vanno matta per questi discorsi, c'era anche Serena Dandini, parlava con Maurizio Costanzo, su facciamo finta che, vi è stato un periodo, di femminicidi, le donne, chiuse in casa, legate al letto, come Sharon Stone, no, non era, vabbè, allora, vabbè, certo, con l'antecedente, sei donne per l'assassino, di Bava, perché, ci sono sempre questi assassini, Bava, Bavosi, fra l'altro, nei film di Dare Argento, non c'è quasi mai un movente, di solito, il movente è il delitto passionale, lui è geloso, perché è stato cornificato, sì, sì, e allora lui dice, no, io sono un uomo con le corne in testa, tu non mi fai fesso, cosa penserà adesso la gente, eh, io t'accedo, no, nei film di Dare Argento c'è uno così, che ammazza, così, le donne stramazzano al suolo, poi ci sono questi, investigatori, vediamo invece cosa dà Tenebre, e qua, Mereghetti, comincia, a cazzeggiare veramente, allora, perché, lì ci sono dei nudi, non Lino Abanti, lì c'è Mirella Abanti, tutta, e lì Mereghetti, non c'è capito, più Nucchez, infatti assegna, due stellette e mezzo, proprio a Cendone, Francio, scuola della Cichela, uno scrittore americano di gialli, franciosa, si trova coinvolto a Roma, in una serie di omicidi, commissi da un fanatico, un moralista, che ha qualche trauma infantile, in sospeso, questo è l'amico di infanzia, di Pugliavate, dei film di Argento, anche il sceneggiatore, uno dei più violenti, uno dei più sofisticati, tecnicamente, molte le sequenze realizzate, con la luma, qui c'è lume, ma con lei, Mereghetti, stasera, nessuna donna, lume di Cadella, direi, lume, una macchina da presa, che consente ogni genere, di acrobazie, a proposito, tutta quella sequenza, del sesso acrobatico, in basic instinct, generalmente sottovalutata, è un vero spasso, per gli amanti del gene, che non si dimenticheranno, facilmente di scene, come quella, della mano mozzata, guardi, Mereghetti, che se continua, io, le taglierò, che cosa, lui, stronga tutto, allora io, io la eviro completamente, eliminate, attenzione, a versioni che circolano in televisione, perché l'attrice, Veronica Largio, futura signora Berlusconi, Iva Robbins, ancora senza apostrofo, lo dice lui, a parte viene accreditato, è la fanciulla scostumata, del flashback, è birichina, sempre, questo linguaggio così, è un po' malizioso, la fanciulla scostumata, per non essere volgare, c'è la puttana, in poche parole, vabbè, Mereghetti, Mereghetti, ci bloccherà, sto cazzo di video, speriamo che non si blocchi, cazzo, e basta, allora, allora, Rex, un cucciolo, papalazzo, allora, vediamo un po', fenomeno, sentiamo, anzi, sentiamo, il sentire cinematografico, di Mereghetti, allora, L, L, arriviamo alla P, la P di Padova, la P di Palle, e la P di Pallini, allora, fenomeno, fenomeno, pieno, nese, inunzio, 14 anni a maggio, la storia della mia vita, di Antonio Capuano, è quello che, dice, ma c'è cazzo, va a fare a Roma, non è stata la mano di Dio, a Roma vanno solo gli Strunz, fra l'altro, i fratelli Manetti, ci stanno girando, tutto diabolic, qui a Bologna, e loro non ci sono, c'è il registro della seconda unità, è un film, di Manetti Bros, che fanno lì a Roma, intanto, schmanettano, schmanettando, schmanettoni, allora, fenomeno, e qua, però c'è una volta in a me, Jennifer Connelly, che poi anche sulla Connelly, da The Hotspot, Walking the Dead, l'Imerghetti, quando ne spara, si, se ne spara a molte, insetti e scimpanze, diventa proprio, un po' maschione, come King Kong, lì, fiaba nera, più horror che thriller, con un intreccio più solido, dell'ambiente dei film di Argento, meno sadico del solito, a parte la sequenza iniziale, in cui la vittima è Fiora Argento, figlia del regista, pensava avesse solo una figlia, no? Imerghetti poi canta, questa è una battuta, pecoreccia, quante belle fighe, mi ammare a mentore, con i tocchi gentili, è un gran finale memorabile, anche se assomiglia un po' troppo a sospire, uno dei migliori Argento di quel periodo, quale si perdona l'abuso di heavy metal, nella colonna sonora, tre stellette, e poi, memerghetti, cosa dice sul Dracula, Dracula 3D, Dracula 3D, ancora non ho visto, occhiali neri, non lo guarderò, perché sono cieco, mi è piaciuta questa freddura, è un film inguardabile, allora, memerghetti a volte è un wire, il cinema di argento assomiglia anche a quello di Hitchcock, no? finesse sul cortile, rear window, anche Brian De Palma, pieno di fan fatale, come Rebecca Romul, Black Dahlia, Dracula, poi finiamo qua, perché mi sembra che una certa autonomia, io, ma, non tanto, io, non sono autonomo, allora, dicevo, l'autonomia del, 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 del cellulare, della memoria, allora, Dracula 3D, Dracula 3D, una stelletta e mezza, però, infedele con, con giudizie, girate in 3D, l'ennesima rilettura del romanzo di Bram Stoker, cerca di istituire il personaggio della sua matrice letteraria e romantica, senza però rinunciare a eccessi splatter, nuvità da exploitation ed effettacci digitali, risultato è comunque superiore, molto il Cina più recente di Argento, anche se pregi e difetti restano i soldi, è una accensione inaspettata, scelte e direzioni degli attori gridano vendette, di fronte ad alcune trovate sciocche e impossibili restare serie, già nella storia del trash, la trasformazione di Dracula in un amante deflorescente, la fotografia di Luciano Tove, l'Art Direction di Antonello Grigolano, entrambi strettamente antirealisti, sono di classe, musiche di Claudio Simonetti, non ci sono però gli effetti speciali di Stivaletti, che fanno il verso, al Danny Elfman più Bartoniano, presentato fuori concorso al Festival, ma passato inosservato nelle saune, nelle sale, non nelle saune, fra l'altro a Mereghetti passa inosservato, lì si scalda sempre Mereghetti, senza bisogno di fare la sauna, e tutto proprio suda molto quando vedi qua, e se passasse anche in un harem tutto nudo, diciamo, le donne proprio, penserebbe, quello fa critiche di cinema, ma quello è un uomo che non vale un cazzo, dai! Allora, mangiamo sta cioccolata, prima fumiamo, perché ci vuole adesso il look da Humphrey Bogart, non andrà, infatti, avete presente quell'episodio di Hitchcock, poi For Rooms, Tarantino, deve accendersi sempre, così, per dieci volte di filo, altrimenti, le taglierò, il pistolino, no, il mignolo, voi non sapete un cazzo, né di cinema, né di cucina, dico anche a voi donne, voi cucinate ai vostri uomini, delle patate, delle patate, che sono buone per loro, sì, quando, quando, quando queste patate, dicevo, vanno con loro, dove vanno le patate? Bocca, sì, sono sboccato, è chiaro? Il commissario Falò, ci saranno dei pezzi seri, riprese, notturne, di notte, vengono fuori gli più strani, con lo specchietto retrovisore, taxi driver, tutte queste zoccole che passano, gente che si incula, si fotte, e io me ne fotte, me ne fotte, platealmente, e Mereghetti, vado a farsi fotte, vado a farsi fotte, dice solo un sacco di stronzetti, e grazie a gente come me, che Mereghetti, sta lì con la gamba a cavalletta, perché gli diamo i soldi, stelletta, pallino vuoto, flop, e intanto, andavo a voglia, con queste seghe, Mereghetti, comunque io l'ho segreto, questo Mereghetti, e l'ho, e l'ho, giudichetto, e bravo Mereghetti, un bravo uomo, e is a brain man, e straight gay, gay, e straight gay, con la U, la U di U U di là, no?